Allora, qui vi mostro come far passare una fonte audio attraverso la microcork, qui apriamo un lettore cd di cui l'uscita entra dentro la microcork, line in, qui si vede lampeggiare, dopodiché scegliete un suono e un programma a vostro piacimento, andate qui su oscillatore uno e selezionate con il primo pommello la parte audio e qui si sente la parte esterna insieme al suono delle tastiere, se invece volete sentire solo la parte esterna, cioè l'audio, andate o tenete premuto shift più tasto 3, comincia a lampeggiare, qui schiacciate, andate di nuovo su oscillatore 1, segniamo di nuovo qui come prima la parte audio, dopodiché andate di nuovo su mixer, e qui diamo il volume, e già è presente. Ok, questo è tutto, alla prossima.